EIWC, Pilots Watch Automatic 36, eleganza e precisione. L'EIWC Pilots Watch Automatic 36 è stato lanciato nel 2016, in occasione del C, Salon Internazionale dell'Autorlogerie, come parte della rinnovata collezione Pilots Watches di EIWC. Tuttavia, le sue origini risalgono ai primi anni dell'aviazione. Quando EIWC fu una delle prime aziende a produrre orologi appositamente progettati per soddisfare le esigenze degli avviatori. Nel 1936, infatti, EIWC presentò il suo primo orologio da pilota, lo Special Pilots Watch, che aveva una cassa in acciaio di 37,5 mm, un movimento antimagnetico, un vetro anteriore infrangibile. Questo orologio fu ideato dai figli del proprietario di EIWC, Ernst Jakobonberger, entrambi i piloti appassionati e uno dei quali, Rudolf Omberger, partecipò anche a un'azione contro gli aerei tedeschi che violarono lo spazio aereo svizzero nel 1940, come membro dell'Aeronautica Svizzera. L'EIWC Pilots Watch Automatic 36 è un orologio che combina eleganza e prestazioni, grazie alla sua cassa in acciaio lucido, al suo quadrante sobrio e al suo movimento automatico di alta qualità. La cassa ha uno spessore di 10,4 mm e una corona a vite che garantisce una resistenza all'acqua di 6 bar. Il vetro è in zaffiro, convesso e antiriflesso su entrambi i lati, e fissato in modo da resistere alla variazione di pressione in cabina. Il quadrante ha un design pulito e leggibile, con numeri arabi e indici luminescenti, lancette a forma di bastone e una finestrella per la data ore 3. Il fondello è in acciaio e riporta l'incisione di un aereo. L'EIWC Pilots Watch Automatic 36 è un orologio che si rivolge a chi ama il volo, ma anche a chi cerca un orologio versatile e affidabile, capace di esprimere personalità e classe in ogni occasione. L'EIWC Pilots Watch Automatic 36 è un orologio che si rivolge a chi ama il